Quando inizia qualcosa di nuovo, ci viene un brivido in fondo alla schiena. Non c'è niente di più bello di quel momento. L'adolescenza è così. Una scoperta continua. Non ci rendiamo conto che le nostre scelte cambieranno tutto. O forse non ci interessa. Perché finché c'è qualcosa da scoprire, tutto sembra ancora possibile.